Sì ragazzi sono il piccolo Ruby e sono qui per farvi un video tag che si chiama The Bookshelf Tag Io le domande le ho prese da Valeria TK, se non conoscete il suo canale ve lo lascio qui nelle schede e nell'infobox è una ragazza che mi piace tantissimo Allora, descrivi la tua libreria, dove l'hai presa? Allora diciamo che l'ho presa in quei centri commerciali del mobile insomma e sta in piedi perché non tira vento, perché insomma è veramente molto leggera Comunque ho quella lì, due mensole qui, questa parte che è oscena, questa parte alla mia sinistra che è oscena e poi ho la mensola grande dove sono riuscito a fare un po' di posto Domanda 2, come organizzo i tuoi libri? Li organizzo per genere, infatti vedete la libreria lì e i cubi che sono lì vicino insomma è che è una specie di coda dove ci sono, lì ci sono i libri fantasy mentre lì là ci sono i libri diciamo contemporanei, letturatura giapponese qui abbiamo altri fantasy lì abbiamo Roth con la letteratura erotica e in mezzo tra, poi vabbè ci ho messo anche Candy Candy che è così cioè Candy Candy si trova tra Istouard e Melissa P e Melissa P si trova vicino a Philip Roth si lo so che brucerò tra i fiammi dell'inferno poi lì abbiamo tutti King e lì abbiamo qualche libro Moravia c'è l'ultimo libro di Zusak che ha letto i due della Ferrante che è Morante e Ruby e poi Annientamento e lì abbiamo la serie della Torre Nera lì che non riuscite a vedere no riuscite a vedere si è vicino alla scatola quindi diciamo che l'organizzazione è un po' così poi vabbè qua c'è il regno del casino più totale ma che cose belle allora andiamo avanti con la terza domanda qual è il libro più lungo che hai? ovviamente è It che consta di 1300 e passa pagine battendo via col vento che ne ha 1100 sì via col vento dovrebbe avere 1100 e qualcosa poi il libro più corto che hai dov'è? allora il libro più corto che ho è L'animale morente di Philip Roth che è un libricino che consta di 118 pagine ed è un libro che io vi consiglio assolutamente di leggere andiamo avanti allora un libro ricevuto come regalo di compleanno ovviamente Fallen il primo volume ovviamente io poi ho recuperato gli altri nell'edizione quella lì con le alette e poi ho recuperato anche il primo ovviamente questo è un valore affettivo cioè non è che lo posso vendere perché ovviamente è stato un regalo di compleanno qual è il libro più costoso che possiedi? è questa versione di Harry Potter che consta di 24 euro quinto volume io l'avevo preso con 15% di sconto e comunque tanto costava perché insomma sono 22 euro però devo dire che oggi come oggi 24 euro per un libro non gli spenderei sinceramente o aspetto la versione brussurata o la compro in ebook o comunque aspetto la brussura insomma se nel caso non dovesse uscire mi butto sull'ebook poi ah no qual è il sì vabbè un libro che ti è stato dato da un amico no perché non ho amici che leggo un libro che posti di corso l'ultimo libro che ho letto è stato ovviamente l'animale morente vi lascerò la recensione insieme a Zuckerman scatenato e all'inganno e questo libro è qualcosa di geniale adesso ne sto leggendo un altro che è geniale poi hai completato delle serie allora per quanto riguarda quest'anno l'unica serie che ho completato al momento è stata quella di Captain Prince che comprende il principe prigioniero la mossa del re e l'ascesa dei re no la mossa del principe e l'ascesa dei re al momento devo completare altre serie come per esempio le cornache lunari devo completare rebel devo completare anche poi devo iniziare un'altra serie che poi vi dirò successivamente e basta però serie completato quella di Fallen quella del Miss Peregrine quella di vabbè di Captain Prince quella della sedicesima luna insomma ne ho completato un po' però se parliamo di quest'anno l'unica che ho completato è stata Captain Prince 10 l'ultimo libro arrivato nella tua libreria e adesso devo andarlo a scavare eccolo qui è Fidanzati dell'inverno io ce l'ho in lettura spero di finirlo tra oggi e domani e spero anche di farne una recensione vi dico solo che la mia recensione non sarà entusiasta se mi seguite su Instagram sapete di che cosa sto ampiamente parlando qual è il libro più vecchio che possiedi? allora è questa versione che io ho comprato usata su Amazon c'è l'ha comprata mia madre su Amazon usata ed è la prima moglie di Daphne Dumourie dovrebbe risalire al 1900 1970 costava 7000 lire ecco questa è la versione più vecchia che ho è un libro che comunque ci tengo perché insomma è un libro veramente molto bello che spero tanto di rileggere io devo rileggere e leggere tante cose ma lasciamo perdere un libro che non vorresti mai perdere di vista ovviamente come non citare via col vento come si fa a perdere di vista questo capolavoro della letteratura mondiale che tra l'altro io dovrò rileggere assolutamente perché mi manca tantissimo Tara Rossella la guerra le vicende insomma mi manca tantissimo e quindi credo che rileggerò questo fantastico libro andiamo avanti allora qual è il libro più rovinato che hai è questo la biblioteca delle anime di Nis Peregrine perché ha la costina ma anche il secondo perché il primo l'avevo preso in biblioteca e la costina si è un po' rovinata tra l'altro qui si è rovinato anche un pochino c'è il coso però insomma dietro c'è il fico poi il libro più immacolato che hai è un dov'è qui vabbè preso da poco ovviamente Fato e Foria di Lauren Croft Croft e anche questo insomma per notta e è immacolato perché non l'ho ancora letto andiamo avanti un libro che non ti appartiene non ho libri che non mi appartengono perché fondamentalmente tutti i libri mi appartengono domanda 16 un libro del tuo colore preferito ovviamente il mio colore preferito è il blu quindi come non citare Shattermy questo libro è bellissimo c'ha tutto blu anche qui anche dietro è favolosissimo mettiamolo qua poi un libro che è sui scaffali da tempo che non hai ancora letto purtroppo La collina dei conigli anche questo spero di riuscire a infilare da qualche parte adesso sono nel mood di Roth poi c'è il libro del GDL insomma sono un po' così però spero magari ce lo infilo da qualche parte in qualche GDL insomma perché sono proprio curioso di leggere questo libro tra l'altro non so neanche se riuscirò a leggere La straniera che è il libro uscito dal GDL sotto trovate tutti i link di tutti i libri sui tuoi scaffali qual è stato il primo che hai letto il primo che ho letto è stato Eragon eccolo qui questo è ricchissimo nel lontano 2011 2010 comunque questo è il primissimo libro che fa parte della mia libreria e del primissimo libro che io ho letto hai dei libri autografati non tantissimi ma uno che mi sta particolarmente a cuore è questo Felin di Sara Bianca che ho avuto il piacere di incontrare lei ha avuto la sfortuna di incontrarmi e dentro c'è scritto appunto una dedica al mio rubi ti adoro amami Sara Bianca eccolo qui però non ho insomma non ho libri tantissimi autografati bene il tag è finito fatemi sapere voi che cosa ne pensate e vi lascerò tutte le recensioni dei libri che vi ho citato qua sotto tipo quello vabbè di Shattermini Speregrin e quant'altro il video e il canale di Valery che saluto se mai vedesse questo video vabbè il video di via col vento che quello è immancabile e niente io vi saluto vi mando un grosso libro tutti i libri citati nella cara affiliazione che se volete comprare comprate così almeno mi aiutate a far crescere il canale vi mando un grosso bacio ci vediamo alla prossima ciao